Ben tornati a tutti. Oggi è venerdì, 24 novembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo bilancia. Avanti per la vostra strada, in barba a quanto dicono gli altri. Contro di voi la luna, iperattiva e frettolosa, proprio quanto voi, eterni indecisi, amate riflettere sulle cose prima di fare le vostre scelte. Vi piace anche parlarne, confrontarvi con gli altri e chiedere consiglio, salvo poi fare comunque di testa vostra o peggio rimanere in attesa che qualcuno scelga per voi. Ce ne sono tanti che non vedono l'ora di farlo, approfittandosi delle vostre insicurezze, è ora di darci un taglio. Interessanti i corsi culturali o del tempo libero che avete preso a frequentare, vi fate nuovi amici e allargate i vostri orizzonti, questa sì che è una saggia risoluzione anche per gli anni a venire e su tempi lunghi, precisa Saturno, la vostra attività professionale ne trarrà beneficio. Vade retro invece a chi interagisce solo per giudicarvi, sentendosi migliore e più capace, andate diritto per la vostra strada senza consentirli interferenze. Oggi l'amore sembra non corrisposto, le coppie potrebbero conoscere una breve crisi. Sembrerà che tutti i progetti, l'amore, il lavoro siano come ostacolati da forze che si sprigionano dal nostro inneriore. C'è confusione in molte cose che andrete a fare, e quello che nasce, nasce dalla confusione. Sarai interessato all'arte e alla compravendita di oggetti curiosi e di oggetti di antiquariato. Favoriti i contatti con le persone poco convenzionali. Poche cose da mettere a posto ancora prima che una situazione delicata si risolva e in modo definitivo. Cercate di confidarvi poco in questa giornata, sono in agguato persone invidiose. Prima o poi i risultati per una cosa che vi sta a cuore arriveranno, perseverate con coraggio e soprattutto con costanza. Non mettete mano al portafogli se non siete sicuri che per voi è la cosa giusta, in fondo pensarci bene due volte è sempre meglio di trovarsi soldi spesi inutilmente. Un po' di stress si farà sentire. Riposa oppure pensa a divertirti. Evita i luoghi affollati. Nervosismo diffuso. Possibili problemi digestivi. Cercate mille ragioni per restare legati a un passato che non vi ha offerto molte possibilità di vivere un futuro migliore. Recidete ogni legame con il passato, il futuro sarà vostro nella misura in cui saprete allontanarvi dal passato. Azioni guidate dal subconscio. Analizza bene i tuoi atteggiamenti. Discreta fortuna in tutto. Tempestività. Creatività. Idee originali. Forte intuito. Non date motivo di pensare al vostro partner che siete delle persone fragili ed emotive. Il vostro partner vi vuole forti e con coraggio. Evitate di polemizzare con amici sulle vostre insicurezze. Avete un atteggiamento che ferisce un vostro collega, di lavoro o di studio, o una persona a voi vicina. Se accade sul lavoro la cosa potrebbe avere dei risvolti per voi negativi in quanto un superiore ne potrebbe essere informato. Periodo astrale fissato da questa giornata di fine novembre positivo, ma anche piuttosto impegnativo per alcuni versi ma voi riuscite, come al solito, a tenere botta. Il sole vi protegge. Il sole da poco sagittario vi tiene manforte con un sestile realizzativo, aiutandovi a chiarire le idee e a sostenere esami e colloqui di selezione con successo. Veloci e proficui anche i viaggi, lo sarebbero ancora di più se il socio, il partner, non si mettesse di mezzo facendovi perdere tempo prezioso. A rappresentarlo la luna retina all'opposizione, mentre Saturno in sesta casa complica la giornata lavorativa o vi fa avvertire in largo anticipo un'antipatica sensazione di stanchezza, sostenete il sistema immunitario con gli integratori. Amore ed Eros. Partner accusatorio, lunatico, offensivo, quando inizia a recriminare si salvi chi può, eppure voi da rimproverarvi non avete nulla, è lui o lei che vi percepisce storto, semplicemente perché guarda le cose dalla parte sbagliata. Romanzo catartico, identificandovi con il protagonista vi chiarite le idee, mettendovi il cuore in pace. La persona amata comprende una vostra esigenza intimista e capisce che non potrete partecipare a una serata di invito tra amici, sia pur decisa da molto tempo. La sua calma comprensiva vi aiuta a sentirvi sempre accolti e, a casa. Ripagherete poi il vostro amato bene con un'intensa dedizione. Splende ancora la vivida presenza nel buon amico sagittario di uno dei vostri pianeti preferiti, Mercurio, specie se siete della seconda decade. Ed è un vero toccasana, poiché sentite il bisogno di un serio relax che vi tenga lontano dal tran tran e dallo stress quotidiano. Lavoro e denaro? Trattative ben condotte, inutile negarlo, nel contatto col pubblico siete veri maestri, eccellenti nell'arte diplomatica, gestita con eleganza e bonton. Mai che vi sfugga una parola sbagliata o un'espressione alterata, la vostra raffinatezza fa presa anche sull'interlocutore più diffidente. Risolvete un impegno difficoltoso che vi aveva fatto brigare e ricevete i buoni risultati che l'entourage lavorativo vi rinvia. Non avete ancora finito questo incarico che già ve se ne presenterà di fronte un altro, pronto a occupare i vostri interessi e soprattutto le vostre abilità nei giorni successivi. Mercurio bello, stimola e prefigura che questo nuovo compito sarà particolarmente interessante, ma che vi darà pure il suo bel da fare. Vedete di prepararvi e organizzatevi, per portare a termine, come sempre e con successo, l'impresa. Benessere. Malessere di origine ambientale, l'inquinamento, lo stress o persone molto anziane, stanche, depresse, vampire di energia. Se non potete tenerle a distanza munitevi almeno di un'ossidiana, pietra che si definisce dotata di poteri magici e protettivi contro la negatività. Denaro. Introiti temporaneamente ridotti non vi devono oggi scoraggiare. Fa parte di un normale alternarsi dei guadagni, delle uscite e delle entrate. Riprenderete fiato tra pochissimo. Per lei, sapere a 360 grado, attraverso il libro, la pellicola, il viaggio, il mondo vi viene incontro nella misura in cui voi andate verso di lui. Come dice Hemingway la cultura non finisce mai. Per lui, interlocutore capriccioso, ma sotto sotto propenso a seguire la vostra direzione. Affare goloso, non fatevelo scappare. Colore delle emozioni, vaniglia. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 7, finanze, 8, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.